Il prefetto di Teramo Fabrizio Stelo e il presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Ippolito, hanno firmato nel Palazzo del Governo il protocollo per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio. L'obiettivo dell'accordo è quello di avviare una stretta collaborazione tra Prefettura, Forze di Polizia e Federazione Italiana Tabaccai, per garantire una maggiore sicurezza nel settore che risulta tra più esposte a furti e rapine. Sebbene i dati attuali non indichino una situazione allarmante nella provincia. È un atto di adesione a un protocollo nazionale firmato dal Ministero dell'Interno e dalla Federazione Tabaccai nazionale e noi dobbiamo provare a metterlo in pratica. Non c'è un allarme tabaccai, è bene precisarlo, ma la madre dei cretini è sempre incinta, quindi noi dobbiamo cercare, stiamo lavorando da tempo per alzare una diga contro ogni possibile forma di illegalità, e di criminalità. Quindi proviamo ora a rinforzare le tabaccherie per evitare ulteriormente qualunque pericolo. Il protocollo prevede misure concrete come l'installazione di sistemi di videosorveglianza esterni alle tabaccherie collegati alle sale operative delle Forze dell'Ordine. Questi sistemi saranno utili per prevenire furti e rapine e potranno essere utilizzati anche per esigenze info-investigative. Ci sono tutta una serie di misure, noi chiamiamo misure di difesa passiva, quindi appunto alzare una diga contro qualunque tipo di malintenzionati, in particolare le telecamere che, così come dico sempre anche a tutti i sindaci, le telecamere sono una via obbligata, che servono sia in fase preventiva, di deterrente, sapere che un negozio o una strada videosorvegliata certamente scoraggia, diciamo così, eventuali atti di criminalità. Se poi succedono le cose con le telecamere si riesce molto spesso a individuare il colpevole e quindi a denunciarlo e le conseguenze che seguono. Quindi le telecamere sono assolutamente importanti, anche indipendentemente dal fatto che possa avvenire dentro una tabaccheria. A volte le immagini servono anche per altri tipi di indagini, comunque servono. Grazie.